Qualche settimana fa è partita la simpatica iniziativa ideata dal cittadino agropolese Andrea Ruocco, che vede il sindaco Adamo Coppola protagonista di vari meme, come vengono chiamati, ovvero foto che vedono il primo cittadino di Agropoli prendere le vesti di vari personaggi di film, ma non solo. Questa iniziativa è stata approvata dalla nostra emittente, che ha cominciato a mandare in onda nella nostra diretta giornaliera e soprattutto a mostrare al sindaco ogni giorno le foto, creando così un piccolo spazio per divertirsi e staccare dall'attenzione di questa emergenza, iniziativa che ha fin da subito divertito anche Coppola, che ha sempre mostrato apprezzamento per queste immagini, le quali col tempo sono diventate attinenti agli accadimenti in città, fra autocertificazioni, controlli e tessere sanitarie. Le foto simpatiche in futuro potrebbero anche diventare un album di figurine, il quale ricavato, una volta messo in vendita, verrà devoluto per le varie iniziative solidali della città di Agropoli.